La crisi sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie, ma per quanto riguarda la morosità negli immobili di proprietà del Comune, la situazione è più o meno in linea con quella registrata negli ultimi anni. L'occasione per fare il punto è arrivata con un'interrogazione presentata dal consigliere Franco Brumana, che ha chiesto all'amministrazione di Lorenzo Radice di fare il punto su pagamenti riscossi di EuroPA, la partecipata del Comune che si occupa della gestione degli immobili di proprietà municipale. I dati parlano chiaro, nonostante la crisi i numeri sono sempre gli stessi. Su 300 immobili circa un terzo degli inquilini non paga l'affitto. I problemi delle riscossioni dipendono poi dal Comune, sarà l'amministrazione a gestire eventuali azioni legali. Grazie a tutti.